Real Madrid, domani il rinnovo di Karim Benzema Karim Benzema prolungherà il suo contratto con il Real Madrid. E quanto lanciato oggi da AS, testata sportiva spagnola che ha lanciato l'esclusiva nella giornata di oggi. . Giunto al Real Madrid nel 2009 e portando in dote 43 reti totali in 112 presenze con l'Olympico Lyonnais, il francese ha subito impressionato i propri tifosi ed il tecnico Pellegrini, che ebbe l'onore di farlo esordire con la camiseta blanca. . Se si leva la prima stagione, Benzema ha sempre raggiunto la doppia cifra, nonostante le presenze ingombranti di Cristiano Ronaldo e Bale, suoi preferiti compagni di reparto. . . . . . . .